nomine veniamo a postazione qui c'è parco, adesso per sole qu'o centro 27 settembre domenica fa calda, fa ancora molto Allora, 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 ci siamo! Primo potere turno, gli svalbonati! Bene, 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 bene! Sì, 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 sì! Sì, 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 sì! Sì, 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 sì! Sì, 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 sì! Sì, 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.